Ebbene cari amici, di nuovo ben trovati per un video tra virgolette divertente. Vi dico la verità, dedicato a un articolo uscito ieri, un articolo che in realtà mi era stato già segnalato da mio fratello, poi però anche questa mattina sollecitato da Fabrizietto, ho detto ok, andiamo ad approfondire questa curiosità. Ok, allora prima di tutto partiamo con la nostra intro. Ben trovati di nuovo, andiamo un attimino ad approfondire questa curiosità mentre in sovraimpressione vedete la locandina del nostro sponsor e come diventare appunto sostenitori del nostro blog canaleforzalazio.com Dobbiamo un po' abituarci all'inclusione nella nostra vita sociale e non vi nascondo che questa cosa un pochino mi fa paura di quella che è chiamata EA, intelligenza artificiale. E quindi diciamo un po' che mi è stato segnalato da più siti, quindi essendo tante le fonti, non sono riuscito a risalire alla prima fonte tra tutte queste, quindi per correttezza o tutta o nessuna non cito nessuna delle fonti che mi sono state indicate. Allora, vi dico la verità che questo articolo appunto che mi è stato segnalato prendiamolo un po' come una sorta di gioco, però all'interno del gioco, attenzione, perché c'è modo di trovare qualcosa di interessante che in qualche modo collima anche con la realtà, ok? Prima di approfondire questo discorso chiediamo a Fabrizietto nello specifico di questo argomento che cosa è appunto questa intelligenza artificiale. Allora, cos'è ChatGPT? ChatGPT è un modello di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI ed è basato sull'architettura GPT 3.5 che sta per Generative Pre-trained Transformer 3.5. Questo modello è stato addestrato su una vasta quantità di testo proveniente da diverse fonti come libri articoli di giornale, siti web e molto altro fino a una data di riferimento del settembre 2021. ChatGPT è progettato per rispondere a domande e interagire con gli utenti utilizzando il linguaggio naturale. Può fornire informazioni, risolvere problemi, fornire spiegazioni su determinati argomenti e persino partecipare a conversazioni di tipo generale. È importante notare che ChatGPT è un modello generativo e non ha accesso a informazioni in tempo reale o esperienze personali. Tutte le risposte fornite da ChatGPT sono basate sulle informazioni apprese durante il suo addestramento e potrebbero non essere aggiornate o accurate rispetto agli sviluppi più recenti. È sempre consigliabile verificare le informazioni importanti da fonti attendibili e fare riferimento alle fonti ufficiali per questioni critiche delicate. Detto ciò, ragazzi, andiamo un po' a vedere cosa è successo. Praticamente è stato chiesto a questa intelligenza artificiale di sintetizzare il gioco di Sarri. Vabbè, questo ci interessa relativamente dove chiaramente questa intelligenza artificiale dice che Sarri ha un approccio con il calcio fatto di un possesso palla veloce, passaggio rapido, pressione alta e che Sarri predilige un 4-3-3 o 4-3-2-1 come ad esempio faceva ad Empoli. Addirittura le varie caratteristiche di tutti i singoli ruoli che pretende Sarri. Poi questo gioco con questa intelligenza artificiale va ad entrare in maniera più importante in quello che è il calcio mercato e quindi sono state date delle indicazioni a questa intelligenza artificiale mentre parlo lo sto leggendo in cui sono state inserite il budget che ha la Lazio e i ruoli in cui la Lazio aveva bisogno di intervenire per rafforzare la squadra. Ebbene, la risposta di questa intelligenza artificiale in determinati casi non vi nascondo che mi ha un pochino sorpreso perché qualcosa corrisponde a verità ma c'è di più, c'è di più prima di entrare in questa cosa sembrerebbe, reputo sempre giusto usare il condizionale sembrerebbe che in questo vuoto di DS improvviso che si è venuto a creare al Milan in questi giorni con l'inaspettato allontanamento di Maldini e Massara sembrerebbe che il Milan si stia appoggiando al supporto di questa intelligenza artificiale intanto per indirizzare quello che è il suo mercato in attesa che una mente pensante umana è questa cosa che mi fa tanto paura di queste innovazioni eccessive prende il controllo del mercato del Milan detto ciò, ritorniamo quindi a quello che vi stavo dicendo e in base a questa intelligenza artificiale i portieri ai quali la Lazio potrebbe essere interessata sono Audero due giorni fa v'ho fatto un beer per caratteristiche abbinate che sono appunto che vanno a collimare col modo di giocare di Sarri sono Audero e Audero v'ho detto che è già della Lazio La Font del Nanz Alessio Cragno del Monza e Musso dell'Atalanta i terzini Pedro Porro degli Spars Cristiano Piccini del Bagdeburgo Davide Zappagosta dell'Atalanta Josif Juranovic dell'Union Berlino e udite udite Fabiano Parisi quel Fabiano Parisi dell'Empoli che ieri abbiamo appreso dalle parole del Presidente Corsi quest'anno sarà messo sul mercato a centrocampo viene fatto il nome di Prae di Jordan di Noias di Sebaios e Manuel Locatelli della Juventus andiamo agli esterni d'attacco perché agli esterni d'attacco ecco lì che spuntano due nomi che sono sempre ricorrenti uno dei due è di grandissima attualità e sto parlando di Domenico Berardi l'altro nome accostato da questa intelligenza artificiale come caratteristiche a una probabile acquisto della Lazio risponde al nome di Riccardo Orsolini del Bologna e questo non è un segreto gli altri nomi sono Bogà dell'Atalanta De Lofeo dell'Udinese e io su De Lofeo dell'Udinese ho qualche sensazione e Turam del Borussia andiamo agli attaccanti sugli attaccanti questa intelligenza artificiale indica che sono da Lazio o meglio sono da Sarrismo in base al budget che ha la Lazio Malen del Borussia Dortmund Edward del Crystal Palace Daka del Leicester City Scamacca del West Ham e guardate un po' anche qui c'è un nome fortemente accostato alla Lazio Arcadius Milik del Marsiglia allora ripeto per quanto mi riguarda sarò antico so vecchio alla soglia dei 50 anni io preferisco sempre una mente pensante umana anche perché vi faccio un esempio le macchine che guidano da sole ne fanno paura ne fanno una paura terribile sono un pericolo in giro non c'ho io pensato ma sarò vecchio io sarò anziano io e attenzione non voglio che nessuno la pensi come me diciamo che nel mondo del calcio già da tanto tempo c'è l'apporto della tecnologia diciamo che questa è una grandissima novità dell'ultimo anno diciamo che sono onesto preferisco a tutti gli effetti una mente pensante umana però mi fa paura quando vedo che una intelligenza artificiale mi cita Audero mi cita Parisi Berardi Orsolini Scamacca Milik ragazzi tutti i giocatori che nella realtà o sono trattati veramente o indirettamente o per i o verso i quali c'è stato un sondaggio riflettiamo un attimo pure su questa cosa quindi ringrazio mio fratello e anche Fabrizietto che mi hanno dato questo spunto per questo secondo video di giornata ragazzi miei riflettiamoci un attimo vi ripeto da una parte questa è una cosa che mi fa un po' paura dall'altra che vi devo dire in chat parliamo e scambiamo opinioni ciao a tutti al prossimo video ciao a tutti grazie 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 a tutti